Dopo settimane è stato reso noto il vero motivo dietro a quella che sembra una separazione definitiva dei Ferragnez, la verità. Punto mentre sono ancora tutti in attesa di una comunicazione ufficiale e chiara da parte di Chiara Ferragni e Fedez, in cui annunciano la separazione, sono venuti fuori per la prima volta i motivi dietro dell'addio della coppia più in vista d'Italia. Gli ha svelati il rapper e arrivano anche le prime conferme. Quello che era nell'aria è stato praticamente confermato e adesso non ci sarebbero più ipotesi o congetture dietro la rottura tra i Ferragnez, cosa è accaduto davvero tra il rapper e l'imprenditrice digitale. La confessione di Fedez su Chiara Ferragni ha a beve, i motivi della rottura. C'è grossa attesa per l'intervista di Fedez a Belvi che andrà in onda questo martedì sera su Rai 2. Il rapper ha fatto una confessione molto importante a Francesca Fagnani riguardo quanto sarebbe accaduto con Chiara Ferragni e non appena sono state rese note le sue parole, è arrivata la conferma delle talpe. L'imprenditrice digitale aveva parlato di una crisi più dura delle altre, ma adesso sembra proprio che lei e Fedez si siano separati. In attesa dell'annuncio ufficiale ci sono le parole di Fedez a Francesca Fagnani che ha confessato come lo scandalo dei Pandoro Balocco, in cui è stata coinvolta Chiara Ferragni e la sua azienda, abbia influito sulla crisi tra lui e la moglie. Ha influito il caso Balocco nella crisi? Sì, 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 queste le parole del rapper che trapelano dalle anticipazioni dell'intervista che andrà in onda questa sera. Sulla questione è intervenuto anche Alessandro Rosica che ha condiviso il video dello spezzone dell'intervista e ha confermato il tutto, dicendo che talpe vicino a loro avrebbero confermato come Fedez fosse adirato per l'accaduto. Gli dava fastidio essere chiamato truffatore dopo aver sempre fatto beneficenze vere e senza aver intascato nemmeno un euro sul caso Balocco. . . . Questa la spiegazione dell'investigatore social Dunque, come lo stesso Fedez ha ribadito a Lafagnani, lo scandalo Balocco ha influito sulla crisi con Chiara Ferragni. La giornalista nella domanda successiva gli ha chiesto se anche lui, come i tanti brand che si sono separati dall'imprenditrice digitale, si fosse sfilato da lei. Per conoscere la risposta, però, dovremo attendere la messa in onda dell'intervista integrale, dove il rapper si è più volte commosso parlando della Ferragni, del suo passato e del tentativo di suicidio quando aveva 18 anni. Willa Viva 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 Viva